RICCARD RETRO E abbiamo una statuina che serve Per un rituale per evocare Muori prima Per evocare una divinità E non specifica quale Dice per evocare gli dei Adesso Che dei abbiano qua però E si Io come sempre come vedete sono ancora Sono sempre molto bravo a estrarre le armi Non ho mai trovato Alcun tipo Osti cazzi Alcun tipo di problema Devo andare Si tori Guarda si tori Sono la morte in persona Evanti Intanto qua faccio le figure da Morite tutti E quindi noi Visto che abbiamo questa statuina Dicevo Abbiamo le facoltà di evocare questa divinità Non so se Sam lo voglia fare Sinceramente Però io si Quindi Sti cazzi Proseguiamo Doveva essere finita qua l'invasione Perfetto Ormai ogni Ogni suono Ogni rumorino Io No Schizzo In un senso buono Namo Signorine Con la faccia da Tigre Non voglio sapere Lasciatemi perdere Tiriamo fuori un'arma Decente Messo Salviamo Permesso Sti cazzi Non dirmi che cadete Perché Ah boom Sto cannone è la cosa più figa Dell'universo Dell'universo Trovo poche munizioni Figlio mio Mi spiace C'è la musichetta figa Ma non vedo i nemici Vuoi? Perché? Devo procedere E mi appaiono Là c'è una bella luce Ah analizza Non sbucano i nemici Però Non è stata Non si può aprire la porta Ok per aprire la porta Dobbiamo fare il rituale Della misura Quindi dobbiamo trovare Il cuore d'oro E la piuma della verità Se non sbaglio Era il rituale Minchia che paura Che faceva la gente Quando moriva in Egitto No? Per vedere se La tua purezza di cuore Perché c'era un kamikaze solo? Giusto? Non si faceva? Il rituale per vedere Se eri puro di cuore Sì 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 Sono un genio Quindi dobbiamo trovare Il cuore e la piuma Quale prima dei due? Ah si è tornati qua? Ah ma Madonna che paura Ma che cazzo C'è faceva con questo? Oh ciccio Cosa? Tiriamo la doppietta? Wow Dove mi stai portando Di bello? Zona aperte Niente doppietta Wow Cosa è che è quello là? Se non era un mio amico Che venisse a trovarmi Allora Non ho preso il munizion Dove andiamo? Sticazius Sticazius Dovrei usare te però Sì ma No no Usiamo lancerazzi Se tratta rompono un po' Rompono un po' il cazzo Stando in mezzo però Noi Ah ma sì giusto Qua l'environment È abbastanza Distruggibile Non troppo Però Per i tempi Immagino fosse Qualcosa di Accettabilissimo Non che i giochi d'oggi Ti facciano distruggere Qualsiasi roba Quasi Boom È il razzetto per te L'ho usato lo stesso Uno Quanti razzi ho buttato via Figlio mio Quaranta razzi avevo Ogni tanto sono bravo Tenere mille munizioni Ogni tanto sono impedito Ma in mezzo Qui dietro Una trappola Di Gesù, Giuseppe e Maria 3, 2, 1 Solo tu? Solo tu? Ma perché ogni tanto qua ti Piazzano le trappole Proprio Ad esempio Appena siamo entrati Non dentro Tebe La cittadina prima Che non mi ricordo il nome Avevo trovato una bella munizioncina Nell'angolino Mi sono chiusi le porte E mi hanno ucciso in un colpo Questa è una pozione Un po' squadratina Mi pare Ma scusa Tutto sto templo Per una pozione di merda Mi hanno fregato Signor Richard L'uno di armatura Lo lascio lì anche volentieri Non è che Messo Questo rumore brutissimo Vabbè ma Questi ormai Quanti bei posti Ci sono qua Tebe Super diversificati Arrivano anche da di qua Non l'avrei mai detto Che bello Capiamoci Non è il gioco Per eccellenza Delle zone Piene di Di strutture Eccetera Anzi Di per sé Abbastanza scialbo C'è un gioco Che fai per sparare Come un coglione Spammare robe No Però Ma è una zona Molto ben fatta Vai Oh signor Madonna che salto Ho fatto qui Vado di doppietta Finché posso Visto che siamo sempre pieni Di munizioni La doppietta bisogna avere Un po' più di calma Però Quando posso Lo uso sempre Perfetto Così non specco Le altre munizioni importanti Tanto voi che vi frega Vi taglio il video Non è che ci mette Che vedete A me che sparo 40 minuti Con un deficiente Allora Riprendiamo in mano Qua il signorino Minigan devo dire Che è la mia La mia preferita Allerta Bisogna aprire Tutte ste robe Ok La si è aperta la porta Quindi immagino Ci sia lì O la piuma Il cuore No Gli ultimi kamikaze Difesa Oh signore Che paura Porca Puttana Io che prendo Per il culo Il kamikaze Ma what enough Ma scusa Ma continuano A volare I cavalli qua Cosa sta succedendo Ma perché Fate le imboscate Ma cosa succede È qui Vita Oddio Ma cosa sta succedendo oggi Ma che è questa partita Cosa Andrà Oh signor No no ragazzi Diamoci subito Una calmata Diamoci una calmata Prima di subito Wow L'architettura Di sto posto Mi piace un casino Mi danno cartucce Spero Dove Mi danno cartucce E poi E poi Non servono Stavo per sparare Il mio razzo addosso Sto posto Che bene che l'ho gestita Sta situa No Sì dai Oh Ah il cuore d'oro Che figo Giusto in tempo Per finire l'episodio Anche se Appena lo prenderemo Ovviamente Sponeranno Un milione di persone Quindi non potremmo Salutarci Vero Perfetto Finito E questo È un achievement segreto Ci sono gli achievement segreti In questo gioco Signori Ma te lì c'è stata puntata Una meraviglia Ci sono certe puntate Che muoio Certo che vado perfetto Signori Questo è il bisogno Finisce qui Come sempre vi ringrazio Per la polvere Per la compagnia Per il sostegno Vi ricordo di lasciare Like al video Se vi è piaciuto O di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Qui è Ricerche Parla E ci vediamo presto Ciao nerds Ciao nerds